Beppe Grillo sull'immigrazione ha delle idee, ma se non vi piacciono, ne ha delle altre. Giusto ieri sul suo blog ha scritto che la lotta all'immigrazione è senza senso perché fra 50 anni metà dei bambini nel mondo sarà africano. Una presa di posizione nobile e da statista vero, altro che Di Maio. C'è però un piccolo problema, ovvero che questa sarà la miliardesima volta che il tenero Beppe cambia idea sul tema. Ad esempio un paio di mesi fa ha rilasciato un'intervista d'America Oggi, poi rilanciata anche sul suo blog, in cui diceva che l'immigrazione andava fermata e che il movimento aveva la stessa posizione della Lega. Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza. Puoi fare come Minniti che ha bloccato il barco senza dirlo esplicitamente per poi declamare i diritti umani come un bimbo che recita la poesia di Natale. Oppure puoi fare come questo governo, impedire lo spaccio di false speranze e intanto ridiscutere tutta la questione a livello europeo. Invece all'indomani della sparatoria di Macerata, quando un ex candidato della Lega Nord decise che era cosa buona e giusta sparare a qualche negro, il garante del movimento si cambiava d'abito e ci spiegava il valore dell'immigrazione. Altri tempi, altre storie. Nel 2015 Beppe pubblicava, come un low party un po' più rock, la conversazione tra un razzista e un non so, nel quale ovviamente si scopriva che il non soista era invece un razzista, mentre quello che si definiva razzista in realtà aveva solo molto, molto buon senso. Insomma, una raffinata variazione sul tema del non sono un razzista sono gli altri che sono negri, che già sentiamo nelle osterie di tutta Italia. Nel 2014 invece ci segnalava con un post sul suo blog che con gli immigrati torna la tubercolosi, ma quell'articolo purtroppo nel frattempo è sparito. Che peccato. Nel libro Il Grillo canta sempre al tramonto, scritto con Dario Fo e già Roberto Casaleggio, parlava della dimensione gigantesca del fenomeno. In pochi anni sono arrivati da noi milioni di disperati e proponeva di aiutarli a casa loro finanziando le energie rinnovabili in Marocco per creare lavoro e ricchezza e fermare le partenze. C'è altro? Ma sì che c'è. Solo che bisogna tornare indietro di 15 anni, ai tempi in cui Beppe aveva una rubrica su internazionale. Eppure, con una percentuale di stranieri molto più bassa di quella svizzera, 2 su 10, o tedesca 1 su 10, in Italia, uno straniero ogni 30 italiani, il governo, alcuni politici e alcuni mezzi di comunicazione stanno fomentando una psicosi da paese invaso. 15 anni fa al governo c'era Berlusconi e si parlava di prendere le impronte agli immigrati per prevenire i furti. E chi erano gli alfieri della proposta? La Lega Nord. Com'è piccolo il mondo, no?